Vi racconto una tipica storia italiana. L'ospedale San Giacomo, cuore di Roma, zona più pregiata dal punto di vista immobiliare, piazza Il Popolo, via del Corso, 33 mila metri quadri, interamente ristrutturati da giunta Marrazzo-Montino, spendendo decine di milioni di euro, macchinari nuovissimi, tutto quello che serve per salvare vite umane, rianimazione, pronto soccorso, unità coronarica, dialisi, nefrologia, oncologia, 2 mila pazienti, 130 mila accessi l'anno. Questo era l'ospedale San Giacomo, nuovo, funzionante, serviva la zona nord di Roma e il centro. San Giacomo, giorno della chiusura, in due mesi, delibera di agosto 2008, chiusura in ottobre 2008, giorno della chiusura, volante la polizia davanti all'ingresso, guarda caso fanno entrare i centri sociali, 50 persone nei centri sociali entrate nel San Giacomo, dopo 10 minuti carica dei carabinieri in tenuta antisommossa, 4 pazienti feriti nel cortile, una donna che andava a fare la chemio, gamba rotta, i centri sociali sono andati tutti in un reparto, sono rimasti un'ora, un'ora e mezzo, non hanno rotto niente, sono usciti dopo un'ora e mezzo, senza toccare niente, tutti pensavano, escono i centri sociali, va via anche la polizia e i carabinieri, e no, perché i centri sociali sono stati il pretesto per poter sgomberare l'ospedale, non dei centri sociali, ma dai medici, dai malati e dagli infermieri, hanno dovuto chiudere le loro cose, buttarle dentro dei sacchi a spazzatura e man mano i reparti venivano chiusi, 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 lucchettati, piantonati e alle 10 e mezzo di sera l'ospedale San Giacomo era sgomberato, questo è il modo in cui la politica ha chiuso l'ospedale San Giacomo, per farci cosa ve lo racconterò la prossima volta.